Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, Marco Casario qui, buongiorno e evviva Ethereum, nuovi massimi storici per Ethereum, raggiunge e rompe il muro dei 1000€, questa volta sto parlando di euro, infatti siamo a più di 2250$, quindi soglia psicologica importantissima per Ethereum, e ne parlavo proprio ieri che in una giornata in cui tantissime criptovalute, la maggior parte delle criptovalute hanno subito una flessione, anche se una flessione flash, Ethereum ha invece mostrato moltissimi muscoli, guardate qui, questo è stato il momento della flessione, come vedete, sì è vero c'è stata, vi ho fatto anche vedere ieri che dal punto di vista del ritracciamento di Fibonacci è stata una flessione normalissima, compresa tra il livello 50 e il livello 61,8, dopo questa flessione il, guardate con che velocità, fatemi fare un attimo un po' di zoom, con che velocità il prezzo ha recuperato e rotto i massimi precedenti, quindi guardate qui, sono candele tutte quante verdi queste, e un'altra cosa, Ethereum ha superato di nuovo, ha superato Ripple per capitalizzazione di mercato, è al secondo posto, come potete vedere qua, 150 miliardi di dollari, ragazzi, veramente incredibile, e vi ho fatto vedere anche ieri dove potrebbe ancora arrivare Ethereum, almeno dal punto di vista di analisi tecnica, ma vi spiego anche dal punto di vista di analisi fondamentale, ragazzi, per la vostra gioia, ormai seguite il mio canale, sapete che tutto quello che vi faccio vedere è espressamente mia opinione, non sono consigli finanziari, non sono un consulente finanziario, quindi mi raccomando, non voglio che nessuno poi mi scrive e mi dica, Marco, ma ci avevi detto di entrare, Marco, allora entro a questo prezzo, no ragazzi, ognuno deve fare i propri investimenti in maniera consapevole, guardate qua, guardiamo questo impulso, con questo ritracciamento, vedete qua c'è stato questo primo impulso, poi il ritracciamento, come vi dicevo ieri, tra il livello 50 e il livello 61,8, nuovo ritracciamento, e adesso, che cosa potrei aspettarmi? Voglio non considerare questo grande spike, voglio andare a vedere, due cose anzi, voglio andare a vedere, dove è arrivato dal punto di vista dell'estensione di Fibonacci questo nuovo impulso rialzista? Eccolo qui, guardate che bello, è proprio adesso, si trova proprio in questo momento, che vi dico sempre, la soglia di attenzione per l'inversione di Fibonacci, per misurare il prossimo impulso rialzista, è tra il livello 127,2 e 161,8, e stiamo proprio qui, questo non vuol dire che il prezzo adesso si fermerà qui e farà una flessione, ma statisticamente i mercati che si muovono in maniera armonica tendono a far questo, quindi è solo un discorso di probabilità e di statistica, e quindi quello che potrebbe fare adesso il nostro prossimo movimento di mercato, se dovesse ritracciare un pochino, potrebbe rimettersi all'interno di questi livelli di prezzo qua, che guardate che bello ragazzi, coincidono anche con i livelli precedenti, vedete coincidono con i livelli precedenti, quindi si appoggerebbe nel caso di una flessione il prezzo sui livelli di prima, per poi continuare la sua salita, ragazzi questo non vuol dire che il prezzo non continui, invece la salita e il mercato delle criptovalute ce l'hanno fatto vedere, e anche molto bene, anche perché, come dico sempre, non ci dimentichiamo che noi stiamo aspettando un nuovo update da parte di Ethereum, l'update che hanno chiamato Casper, l'aggiornamento che consentirebbe il proof of stake consensus per questa criptovaluta, c'è grandissima attesa per questo aggiornamento, è un cambio importantissimo, quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che fondamentalmente, non vuol dire che verrà donato il proof of work, che ragazzi non vuol dire che non verrà più minato Ethereum, ma il proof of work verrà utilizzato esclusivamente come punto di controllo ogni 100 blocchi, quindi per garantire le transazioni che non potranno, le transazioni non potranno più praticamente essere, diciamo così, uscire più di una volta. È davvero importante come update, e poi c'è anche Plasma, un altro update di Ethereum. Insomma ragazzi, ci troviamo in un momento importante, in un momento in cui Ethereum sta mostrando muscoli, siamo alle porte di questo update importante di Casper, che sta aspettando l'intera comunità blockchain, non solo la comunità di Ethereum, per vedere che cosa succederà. Questo potrebbe dare un impatto positivo, se qualcosa va storto, viceversa, potrebbe dare un impatto negativo al valore, al prezzo di Ethereum. Ieri Ethereum ci ha dimostrato, il mercato, ovvero noi, abbiamo dimostrato che il progetto è robusto, nessuno si è fatto prendere dal panico, dalla paura, non ci sono state grande flessioni, e quindi ci sono ancora spazi di movimento. Come al solito ragazzi, il prezzo non va sempre solo in alto, i prezzi, vedete, si muovono per cicli, quindi anche se qui si formasse un ABCD pattern, quindi A, B, C e D, e si è appena formato, adesso potrebbe esserci questa flessione, per poi formare una nuova gamba al rialzo. Quindi sto unendo aspetti di analisi tecnica ad analisi fondamentali, qui potremo anche vedere dal punto di vista della volatilità. Andiamo a vedere un secondo, voglio andare a vedere le Bollinger Band come si stanno sviluppando. Guardate qua che bello, fatemi togliere questo, guardate che rottura c'è stata sulle Bollinger Band proprio attuali. Vedete qua il prezzo ha compresso, infatti si sono strette le due bande di Bollinger, che è il segnale di quando sta comprimendo e ci si aspetta poi un'esplosione verso l'alto o verso il basso, l'esplosione c'è stata qui, guardate qui come, fatemi solo togliere questi livelli di Fibonacci, così lo vedete meglio, guardate qui come si cominciano ad allargare e poi qua esplodono, guardate come si allargano, questa è la volatilità media praticamente sul mercato, e poi ancora il prezzo si appoggia sulla mediana, questa è una moving average modificata, e il prezzo boom esplode e si mette sulla banda superiore. Ragazzi, incredibile quello che sta facendo Ethereum, staremo a vedere e lo seguiremo con gli occhi puntati, per adesso è tutto, ditemi che cosa ne pensate, lasciatemi dei commenti a me e a tutta la nostra community, ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!